Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 189esima puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi come sempre le principali notizie del mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. Come potete vedere se mi seguite già su YouTube, questa è una puntata video del podcast come da tradizione degli ultimi mesi, perché sono parecchi mesi che porto avanti questa tradizione e un modo come un altro per seguire il podcast, un modo che molti di voi trovano anche migliore rispetto al classico podcast, perché oltre ad ascoltare la mia assolente voce potete vedere le notizie che vado a commentare di volta in volta sulla puntata del podcast. Se ancora non l'aveste fatto vi invito a iscrivervi numerosi al canale YouTube di Marcos Box, mi trovate cercando quello del pacco come Andal oppure cliccando direttamente qui su Seguimi sui social, su blog, venite rimandati al canale YouTube di Marcos Box. Da qualche giorno si chiama quello del pacco, l'ho specificato perché sto facendo una specie di rebranding del mio personaggio su YouTube. Passiamo alla prima notizia di questa puntata costana, che non vede tante notizie perché ci sono state le vacanze di mezzo e sono state vacanze anche per gli sviluppatori, comunque ci sono alcune notizie interessanti che meritano di essere commentate. Ma andiamo con ordine, dedichiamo il primo blocco a parlare delle distribuzioni Linux perché c'è stato uno sgrittamento del rilascio di Ubuntu 24.04.1 LTS, la prima point release di Ubuntu. Il rilascio della prima point release di Ubuntu 24.04 doveva avvenire il 19 agosto ma è stato rimandato il tutto a fine mese, precisamente il 29 agosto, quindi due settimane in più. Perché hanno deciso di rimandare il rilascio della prima point release della nuova LTS di Ubuntu? Perché hanno scoperto alcuni bug ad alto impatto che riguardavano il processo di aggiornamento della distro ed è una cosa molto importante per una versione LTS per la prima point release della versione LTS di Ubuntu perché con il rilascio della prima point release di una LTS c'è l'attivazione della procedura di aggiornamento per gli utenti della precedente LTS. Quindi agli utenti della precedente LTS di Ubuntu nel momento stesso del rilascio della prima point release viene proposto di aggiornare la distribuzione, di passare alla nuova LTS. Quindi un bug di questo tipo è un bug altamente impattante sulla distro. Quindi un'altra settimana potete pazientare se siete ancora sulla vecchia LTS. Vi ricordo ovviamente che se già avete installato Ubuntu 24.04 non dovrete fare null'altro che seguire gli aggiornamenti di sistema per ritrovarvi con la prima point release installata, la 0.01 e si tratta soltanto di un aggiornamento, diciamo così, di un aggiornamento software che arriva tramite gli aggiornamenti regolari. Quindi se siete nuovi delle LTS non vi preoccupate, non dovete fare nient'altro. Vi verrà aggiornata da solo la distribuzione. E passiamo adesso ad un'altra notizia riguardando un'altra distribuzione, una distribuzione un po' bistrattata, in passato, per via di alcune cose che erano successe per quanto riguarda una funzionalità, vabbè, andatevi a ripescare le vecchie puntate del podcast o a ripescare le vecchie notizie. Se andate sul blog, cliccate su Dpin Linux e andate a vedere che cosa era successo in passato. C'è stato il rilascio della nuova versione di Dpin Linux, la versione 23. Dpin è una distribuzione cinese, sviluppata in Cina, che ha alcune caratteristiche interessanti, è basata, le ultime versioni sono basate su Debian, quindi stabilità massima, però offre un desktop environment interamente sviluppato in casa, chiamato Dpin Desktop Environment e con questa versione, con la versione 23, sono state aggiunte anche alcune cose particolari, come una funzionalità di intelligenza artificiale e un assistente chiamato UOS AI, basato sull'intelligenza artificiale. Troviamo inoltre su questa nuova versione di Dpin gli aggiornamenti atomici, il supporto per una ampia gamma di architetture di CPU, perché adesso praticamente oltre alle classiche architetture classiche, tra virgolette, perché non è da tanto che vengono supportate da tutte le distribuzioni. Troviamo il supporto all'architettura ARM64, troviamo il supporto all'architettura RISC-V e all'architettura LongArc64, che se non sapete che cosa sono, andateci a cliccare sul link che trovate sul blog, vi si apre la pagina cinese di Dpin Linux, potete mettere anche la lingua inglese, che vi spiega che cos'è questa architettura di processori, sono CPU sviluppate interamente in Cina. Quindi il team di Dpin Linux, ovviamente, anche perché sta ricevendo sovvenzioni da parte del governo centrale cinese, sta cercando di implementare a meglio proprio i processori, quelli nazionali. Sapete bene che la Cina si è dato un obiettivo, quello di essere indipendente dal punto di vista tecnologico, sia software che hardware, e lo farà a breve anche per quanto riguarda tutti quanti i computer della pubblica amministrazione e delle aziende con partecipate statali. Quindi ci sono processori sviluppati in Cina, ci sono distribuzioni sviluppate in Cina, quindi verrà utilizzato tutto un sistema nazionale che fanno bene quelli della Cina a implementare, in modo tale da sgregarsi da tutti quanti i big occidentali. Lo fanno ovviamente per questioni geopolitiche, per questioni economiche, lo fanno anche per questioni di sicurezza, tra virgolette, nazionale. Sapete bene a che cosa mi riferisco. Ma cambiamo adesso argomento e passiamo a parlare di rilasci di software. Ci sono stati due rilasci di software interessanti. Prima riguarda la versione Nitri, l'ultima versione di Nitri di Firefox 131, la versione quella in sviluppo di Firefox, che vede l'aggiunta di una funzionalità tanto attesa, ovvero le schede verticali. Per l'occasione ho pubblicato anche un video sulle pagine del blog, che potete trovare linkato nell'articolo sulle pagine del blog e lo trovate anche sul canale YouTube di Marcos Box, che vi fa vedere come funziona questa funzionalità. Adesso possiamo impostare una barra letterare con le schede per accedere facilmente a cronologie, a schede di altri dispositivi, a estensione e tante altre cose. Mentre navighiamo, è una funzionalità molto richiesta da tantissimi utenti. Ci sono altri browser che l'hanno implementato ormai da diverso tempo, Vivaldi, Brave, c'era un browser sviluppato per GNOME che implementava anche questa funzionalità e adesso lo vediamo aggiungere anche su Firefox. È molto richiesta, tant'è vero che moltissimi utenti su Firefox andavano a installarsi delle estensioni per poter avere questa funzionalità. Adesso, appena questa funzionalità verrà giudicata stabile e arriverà nel ramo stabile di Ubuntu, sarà possibile provarla e utilizzarla sulla versione stabile di Ubuntu per tutti quanti. Adesso ancora in sviluppo la stanno rifinendo. Io non la trovo tanto interessante questa funzionalità, preferisco sempre le schede in alto, però ci sta, è una funzionalità richiesta. Benvenga che Firefox accontenti i suoi utenti, perché quello che devono fare gli sviluppatori di Firefox è concentrarsi sul browser, che è la funzionalità principale, quindi funzionalità, la ottimizzazione e quant'altro. Tutte quelle cose aggiuntive che sono andate a mettere nel corso degli anni, quegli investimenti che hanno fatto, secondo me, hanno fatto cazzate su cazzate, scusate il francesismo, dove non concentrarsi soltanto sul browser, sulla navigazione, perché un browser deve fare il browser, se non fa bene nemmeno il browser, che campo a fare? Vabbè, considerazioni personali a parte. Passiamo adesso a parlare dell'altro software che è stato rilasciato, è stata rilasciata una nuova versione di LibreOffice, la 24.8. Questa nuova versione di LibreOffice offre maggior privacy per gli utenti della suite ufficio è il supporto ARM per Windows. Quindi è la prima versione con il supporto per la versione ARM per Windows, per Linux non si sa quando arriverà questa cosa, attualmente il supporto praticamente lo troviamo su tanto, il supporto ARM, tra virgolette, lo troviamo per MacOS e Windows, perché per Linux immagino che verrà fatto, verrà fatto molto più grande il tempo perché non è così diffuso l'utilizzo di processori ARM per quanto riguarda gli utenti Linux. Dicevo, si sono concentrati sulla privacy degli utenti con l'introduzione di una nuova funzionalità che consente di andare a spuntare una voce per rimuovere informazioni personali dal salvataggio dei file. Una volta riattivate le informazioni personali non vengono più esportate, quindi quando andate a fare un salvataggio dei file non vengono solo esportati i metadati con i nomi degli autori, marche temporali, orari di modifica, nomi e configurazione della stampante, modello del documento, autore e quant'altro. Insomma, quindi viene fatto tutto in maniera anonima ed è una funzionalità che può essere interessante nel caso di utilizzo all'interno della pubblica amministrazione. Ci sono poi ovviamente modifiche che sono state fatte a tutti quanti i programmi della suite, a Writer, a Calc, a Impress, a Chart, miglioramenti per quanto riguarda l'accessibilità, miglioramenti per quanto riguarda la sicurezza e anche miglioramenti per quanto riguarda l'interoperabilità con anche una migliore interoperabilità con i file di PowerPoint che adesso si aprono più velocemente rispetto al passato. Io utilizzo LibreOffice come suite l'ufficio su Linux. Devo essere sincero, su Windows negli ultimi anni l'ho abbandonata perché mi trovo spesso a lavorare con persone che utilizzano Microsoft Office, utilizzano formati proprietari Microsoft Office e stare lì ogni volta ad avere problemi con questa gente che ti manda formati proprietari con tabulazioni che si sbagliano e quant'altro è una vera rottura. In quel caso mi sono dovuto, tra virgolette, soccombere alle decisioni, quindi ho dovuto acquistare una licenza di Microsoft Office per Windows. Voi, non so, avete una licenza di Microsoft Office per Windows? Io vi consiglio di terrenere sempre perché, vi ripeto, lo so che è una cosa bruttissima da dire per quanto riguarda un pinguino incalito, però se dovete lavorare con il mondo circostante, spesso e volentieri dovete scendere a compromessi e uno di questi è proprio l'utilizzo di alcuni software. Poi, tra virgolette, mi serve anche la licenza di Office su Windows anche per alcuni software rilasciati anche dallo Stato perché praticamente c'è un software che serve per fare le certificazioni energetiche che si appoggia a... come si chiama? Microsoft Office, quindi senza di Microsoft Office non posso far funzionare questo software. Ci ho provato anche in passato a contattare il CNR che sviluppa questo software, che è il Dojet, che serve per le certificazioni energetiche, chiedendogli di farlo stand alone, di farlo in modo tale che funzioni, si possa interfacciare anche con Libre Office, mi hanno dato picche e purtroppo sono costretto a utilizzare. Comunque, ne approfitto anche per ricordarvi che se avete bisogno di una licenza di Windows o una licenza di Microsoft Office, sulle pagine del blog devo andare a beccare quanto tempo fanno operato, vabbè, c'è una... ve lo metto qua sotto. Ecco qua. Su KeyFans è possibile acquistare licenze sfruttando il codice offerto da... per i rottori di Marcos Box da parte di KeyFans. Quindi, se volete, se avete la necessità di acquistare una licenza Office o una licenza Windows a poco, potete utilizzare questo servizio. Sono, diciamo così, provengono dal mercato grigio delle licenze. Fateci un pensiero se dovete utilizzare, se proprio dovete utilizzare, tanto vale risparmiare. E vabbè, passiamo adesso ad un'altra notizia, sempre riguardando il mondo Ubuntu, perché c'è stata una guida pubblicata da Guka che vi spiega che cosa succede quando vi trovate con una partizione di boot troppo spessa e non sapete come fare, Instagram o i kernel, vi spiega qual è il comando da utilizzare su Ubuntu Linux per poter andare a rimuovere i vecchi kernel, i kernel precedenti. E trovate l'articolo guida pubblicato sulle pagine del blog. Andate a lasciare magari un commento in descrizione se anche voi vi siete trovati in questo problema o se voi avete la partizione di boot immensa. Io ce l'ho da un tiro, mi sembra, no, sì, un tiro, un giga, scusate, un tiro, che stazzo di da un giga la partizione di boot. Vabbè, comunque, sulle pagine del blog trovate maggiori informazioni e l'articolo completo. E passiamo adesso all'ultima notizia, una notizia che riguarda un'alerta che è stata rilasciata in Russia. Mi viene da ridere commentando questa notizia, perché anche pensate ai trascorsi che sono stati fatti all'inizio della guerra, quando i russi erano costretti a utilizzare le comunicazioni cellulari per non essere hackerati da parte degli ucraini. E che cosa è successo? È successo che, come ben saprete, l'esercito ucraino è penetrato all'interno di alcuni territori della Russia, nelle regioni, perché non mi ricorderò mai a memoria, regioni di Bryansk, Kursk e Belgorod. Spero di averle pronunciate in maniera corretta. Vabbè, ci sono le R, quindi non si è capito niente, è di sicuro. L'esercito ucraino è penetrato all'interno di questi territori e i russi si sono resi conto, perché di sicuro anche loro hanno utilizzato queste cose in passato, si sono resi conto dei rischi connessi alla sicurezza dovuti alle telecamere di videosorveglianza, software e quant'altro, che possono essere utilizzati per poter avere informazioni sul territorio che sono stati occupati dagli ucraini. e quindi hanno lanciato un'alerta in Russia, hanno invitato tutti quanti i cittadini a disattivare gli impianti di sorveglianza domestica, quindi telecamere, quelle IPcam connesse attorno alle vostre case, appartamenti e quant'altro, di anche evitare di utilizzare applicazioni, applicazioni di incontri, chat e quant'altro, addirittura anche di disattivare la funzionalità presente per gli utenti telecam, quella persone vicine che vi consente di mostrare le persone geograficamente vicine, perché si sono accorti che gli ucraini utilizzano i dati provenienti dagli IPcam che non sono protette da queste applicazioni e quant'altro per meglio mappare il territorio e utilizzano queste informazioni per poter pianificare meglio le loro incursioni all'interno del territorio. E' una cosa questa qui che fa riflettere perché se viene utilizzata normalmente per queste cose verrà di sicuro utilizzata da qualche parte del mondo, da qualche malintenzionato, verranno utilizzate per fare altri tipi di cose, verranno utilizzate, anzi vengono utilizzate sicuramente dagli stati per poter spiare i propri cittadini, quindi meditate sempre sui dispositivi che vi mettete all'interno delle case. Tra l'altro vi ho lasciato un link all'interno dell'articolo al sito Insecam, se non conoscete questo sito, cliccateci da sopra e fatevi una cultura. Praticamente questo sito raccoglie tutte quante quelle IPcam che sono proiettate pubbliche online e quindi andando qui potete vedere se anche nella vostra zona ci sono delle telecamere in sicure, vedere quello che stanno sorvegliando, tra virgolette. Ripeto, meditate sempre quando vi mettete degli apparecchiature all'interno delle vostre case per la video sorveglianza, dovete saperle programmare in modo tale da avere delle credenziali di sicurezza per l'accesso e dovete anche fidarvi del produttore che vi vende il vostro dispositivo, la vostra IPcam, perché magari su una IPcam quella comprata e pagata anche un bel po' di soldini, acquistata nel centro commerciale, acquistata su Amazon, di produttori noti, di produttori di cui ci possiamo fidare perché sono specializzati in questo settore da anni e fanno soltanto quello che ora, in quel caso magari uno può stare un po' più tranquillo, un po' più tranquillo, ma non è mai la massima sicurezza, può stare un po' più tranquillo che non ci sono bug, non ci sono buchi di sicurezza, non possono essere utilizzati in maniera fradulenta per poter avere accesso alle nostre case, però fatemi una domanda, ci sono in commercio centinaia e migliaia di produttori di IPcam cinizzi a basso costo, voi volete secondo voi che quelli investano sulla sicurezza degli utenti o secondo me no? Quindi mano a mano che si abbassa il costo di questi dispositivi dovete farvi due ragionamenti pratici sulla sicurezza, quindi fatevi queste paranoie mentali su queste cose qua perché in futuro ne vedremo delle belle con queste cose, già in passato si è visto che addirittura c'erano delle quali di sicurezza per quanto riguarda la gestione anche dei robot, quelli che stanno dentro casa, quelli che servono per fare pulizze automatiche, che avevano le delle camere ed le immagini erano visualizzate da parte dei subappaltatori tecnici che dovevano migliorare il servizio di questi dispositivi che visualizzavano le immagini per poter andare a migliorare la funzionalità di navigazione e di pulizia di questi dispositivi, però poi si è scoperto che alla fine questi venivano visualizzati, venivano utilizzati in maniera inopportuna e certe immagini trapelavano, certe immagini personali trapelavano, trapelavano l'anno e venivano visualizzate da questi malintenzionali, quindi dovunque c'è una telecamera c'è un rischio. In passato mi sembra che ho parlato anche di una notizia riguardante un problema simile anche con delle... anzi, e vabbè, con questa ultima notizia si conclude qui questa 189esima puntata del podcast di Marcosbox, io come sempre vi invito a seguirmi numerosi sui social, mi trovate su Facebook, su X, mi trovate su YouTube, mi trovate sui principali piattaforme di podcasting, mi trovate su LinkedIn con il mio profilo personale, mi trovate su Mastodon, mi trovate soprattutto su Telegram dove è presente un canale dedicato alle news, una community Telegram alla quale vi invito a iscrivervi numerosi, dove non si parla soltanto di news ma anche di altre cose, e poi trovate anche un canale Telegram con le offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog, sapete come funziona? Voi acquistate da un link referral e Amazon mi restituisce una piccola percentuale sul vostro acquisto, a voi non vi cambia niente, è Amazon che mi dà questa percentuale. Vi ricordo che se non è presente il link al prodotto che cercate su Amazon potete contattarmi in privato e vi genero il link con l'alternativa, se siete più pratici potete aggiungere a voi il codice Marcosbox-21 che trovate sul blog oppure cliccando direttamente sul pinguino del supporto vi apre la pagina con il link referral e poi li potete acquistare. E vi ricordo inoltre che potete supportare anche i blog abbonandovi a NordVPN, il miglior servizio VPN attualmente presente sul mercato, lo so che tutti quanti dicono la stessa cosa di NordVPN, però effettivamente è così, è quello che offre maggiori funzionalità, maggiore sicurezza rispetto agli altri, offre anche diverse chicche che altri servizi VPN non hanno. E c'è una nuova, vediamo l'ultima offerta che è con i link affiliazioni, che cosa vi dà? Se vi abbonate adesso potete ottenere il 73% di sconto sul NordVPN, sul piano biennale, più un buono di 6 mesi da regalare a chi volete, più anche 3 mesi extra, quindi... chi più ha una pianetta, quindi è un'offerta da sfruttare, praticamente quando vi viene a finire, ve lo dico subito, ah, è il piano base questo qua, quindi... Vedete, sono 83 euro e 43 con il piano base, se fate il piano quello lì extra che vi dà anche altre funzionalità, come il blocco della pubblicità dei tracker, i password manager con data breach, pagate 107 euro, quindi è poca la differenza rispetto al piano base, avete delle funzionalità in più. Poi se volete proprio strafare c'è il piano, quello Ultimate, che costa 175 euro adesso in offerta per i primi due anni, dove vi dà oltre alla VPN, il blocco della pubblicità dei tracker, la protezione anti-malware, il password manager, vi dà anche un cloud di spazio di archiviazione criptografato, e poi vi dà l'assicurazione cyber, che è una novità delle ultime settimane, diciamo così, con il recupero delle perdite da truffe informatiche, un capitale di, fino a una copertura di 5.000 euro, e un recupero delle perdite da frodi per acquisti online con una copertura di 5.000 euro, quindi vi fate anche una assicurazione, conviene, conviene NordVPN. E che di dire, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci rivediamo la prossima settimana, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del Podcast di Marcos Box. Ciao ciao!